Fino a settimana ricco di eventi al Mercato Generale di Bolzano. Questa mattina nella Sala Incontri della struttura di Via Macello, nell'ambito dell'iniziativa Aperitivi con l'Arte, sono stati presentati ed esposti i quadri realizzati dalle allieve di Giuliana Demetri. Opere realizzate con la tecnica d'acquarello, molto apprezzata dai presenti e che rimarranno esposte fino al 28 giugno. Fino a domani, invece, sempre al Mercato Generale, è in programma la Festa del Pesce organizzata con il supporto del gruppo Alpini Piani e della locale sezione UISP. La Festa del Pesce e anche gli aperitivi con l'Arte sono molto importanti perché il Mercato Generale venga conosciuto, non solo dal quartiere ma anche da altre zone della città e della provincia, perché deve diventare un punto d'incontro, non solo commerciale ma anche per i vari cittadini che possono trovare al mercato diverse iniziative per stare insieme. Tra gli obiettivi della Festa del Pesce è quello di informare e sensibilizzare le famiglie al consumo di prodotti itici da introdurre settimanalmente nell'alimentazione. Il protagonista sarà ovviamente la buona cucina con piatti a base di pesce preparati dal gruppo Alpini Piani, ma ci saranno anche dolci, giochi per i più piccoli e musica dal vivo. Domenica dalle 11 alle 17 sarà possibile, per chi lo volesse, raggiungere il Mercato Generale da Piazza Walter utilizzando il trenino navetta con la mascotte Poppy.